Non avremmo mai creduto che saresti riuscito ad arrivare fin qui. Adesso ti aspetta lo scontro finale con Zarok. Si è circondato di guardie del corpo soprannaturali ma puoi ancora far pendere la bilancia dalla tua parte invocando le anime smarrite raccolte nel tuo calice. Metti il calice sullo scudo al centro dell'arena. Buona fortuna Daniel Fortescue! Grazie a tutti! Sir Fortescue! Vecchio nemico ci incontriamo di nuovo. Hai trascorso un secolo come cibo per vermi e non sei riuscito a disfarti dell'ingenua ossessione di liberare Gallomere. Siate pronti ad attaccare, guerrieri. Voglio che i cani abbiano midollo da rosicchiare fra un'ora. Che cos'è Fortescue? Il tuo portafortuna? Per l'onore di Gallomere! Per l'onore di Gallomere! Per l'onore di Gallo 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 La fortuna ti ha riso sempre in battaglia, Fortescue Vediamo come te la cavi contro il mio campione Il defunto Lord Cardok Mangia le persone come se fossero pastic di vitamine Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti No, non quello lì Oh no, non adesso Adesso è mio potere Nessuno sconfiggerà il potente Zarok Preparati a morire, Fortescue No, non, 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 non Grazie. 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 Maledetto signor cavaliere, sono finito. Ma se io muoio, anche gli altri devono morire. Sei condannato, Fortescue, non uscirai da questo posto. Grazie. 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 Grazie.